Bella ragazzotti, bentornati in Rise of Industries mi avete chiesto in tanti di fare un secondo appuntamento io vi accontento però penso che sarà l'ultimo tra l'altro non ho potuto farlo subito perché il nostro amico ha aggiornato alla 0.5.2 e ha modificato un sacco di cose questo salvataggio era totalmente inaccettabile andava a 1 fps fortunatamente adesso ha fatto uscire una beta quindi se andate su Steam tasto destro proprietà beta potete mettere una versione equivalente alle precedenti tra l'altro ho scoperto andando un po' a spizzare tutto quanto che il nostro amico cambierà totalmente il tritec avremo tutte le industrie disponibili subito e dovranno essere acquistati i potenziamenti quindi ragazzi sarà totalmente un altro tipo di gioco e penso di farvi un biglietto non appena viene aggiornato comunque per tornare alla nostra bella città bella si fa per dire che è piena di industrie per adesso noi stiamo vendendo andiamo a fare un recap anzi di quello che vendiamo il Fisherman non è il nostro noi abbiamo due water collector che vanno qui e fanno cartone del latte, cartone del latte, cartone del latte fanno il cartone queste fabbriche di carta non lo so come si chiamano fabbriche di carta fanno del cartone per poi fare il cartone del latte quindi eccolo qui abbiamo bisogno del cartone e ci fa il cartone del latte il cartone del latte che rivendiamo in città a un prezzo importante fatevi andare a vedere no, forse è 92 mila col cacchio che te lo vendo c'è un casino di roba qui dentro eccolo qua, Little Pine Little Pine che adesso sta crescendo vertigianalmente è arrivata a 358 mila persone mi pare che fosse all'inizio il cartone del latte se non è all'inizio è più giù eccolo qua cardboard 16 mila ma il cartone no, questo è milk dove sei? oh, 55 mila mamma, adesso c'è un po' una fluttuazione inferiore e per il resto stiamo vendendo delle mele e il resto, la carta e il cartone che comunque sono dei beni imporcianci però con l'espansione della città aumentano le richieste infatti la città dovrebbe aumentare di negozio prima aumentando ogni 50 mila persone con il nuovo aggiornamento tra l'altro nuovo aggiornamento ragazzotti se vi piace questo tipo di gioco metto pausa, non si sa mai sappiate che per adesso questo gioco sta soltanto implementando le meccaniche non c'è una reale difficoltà cioè nel momento in cui noi siamo positivi con i soldi non succederà niente che ci metterà in difficoltà cioè si potrebbe la città mettere delle fabbriche di cartone e saturare la sua richiesta di cartone però se abbiamo introiti da 10 prodotti diversi è difficile che uno soltanto possa pregiudicare le nostre finanze quindi per adesso lui sta sviluppando i programmatori stanno sviluppando l'albero tech le meccaniche i costi e tutto quanto dopo metteranno un po' di difficoltà sebbene io stia visto che è comunque la mia prima volta qui sto giocando con il grado facile cioè facile 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 allora che bisogna fare a questo punto a questo punto abbiamo delle fabbriche avviate alcuni mi hanno un po' criticato nella gestione della logistica ci avete ragione ci sono dei metodi per fare una logistica molto molto migliore ad esempio metterli a equidistanza così a tutti i camioncini gli arriva 1 1 1 1 però vabbè io adesso non sento questa necessità sinceramente andiamo a dare un'occhiata alle cose nuove che sono uscite ho aperto tutto non avevo aperto questo e questo qui e poi ci dovremmo essere ok le cose nuove sono dei il berley whiskey a 128.000 il brandy a 206.000 ora non fatemi ingannare non è che una scatola di brandy costa 206.000 dollari è probabilmente un'unità di misura un po' randomica nel senso dipende probabilmente dalla difficoltà di produzione il grano si fa facile e quindi costa di meno giustamente questo brandy o questo non lo so forse vediamo si no vediamo il brandy questo brandy vuole semplicemente delle bottiglie e delle grape che si fanno nell'orchard ora andiamo a vedere un attimo la nostra orchard perché non mi ricordo farming ah la orchard è bloccata è bloccata peccato dobbiamo prendere il brandy e metterlo da parte però adesso possiamo fare però le cose che si fanno attenzione attenzione anche il vino quindi accidenti il barley whiskey invece vuole sempre le bottiglie il grano e l'acqua ragazzi abbiamo trovato cazzo 128.000 niente male niente male il liquore al cioccolato il liquore al cioccolato è una plantation non ho punti per sbloccare questo non ho punti per sbloccare questo peccato perché anche il liquore al cioccolato 180.000 allora direi di andare sul barley quindi chiudiamo tutto e questo qui è il liquor posso rinominarlo? ok riapriamo soltanto lo store di liquori eccolo qua e riapriamo soltanto il barley non c'è modo per fissarlo peccato mi sarebbe piaciuto ma quello che ci interessa è vedere se è fattibile fare le bottiglie purtroppo purtroppo abbiamo due grossi problemi e sono i punti i punti non ci bastano perché per fare il bicchiere di vetro ah mi sono scordato che vendiamo anche le cans queste qui le lattine per fare il bicchiere di vetro dobbiamo sbloccare questo e quindi sarebbe un punto ma dobbiamo sbloccare la brewery ciao shifty e poi dobbiamo sbloccare i distillati sono tre punti tre punti imporcianci purtroppo quindi dobbiamo desistere dal nostro eh mi sarebbe piaciuto mi sarebbe piaciuto ma magari li accumuliamo lentamente non importa andiamo a vedere come si torna ogni volta qui perfetto andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa che possiamo ragazzi purtroppo la gestione di un impero di un impero economico va va strutturata bene allora qui abbiamo la manifattura che però ragazzi richiede tantissimo tantissimo lavoro nella carpentry anche se effettivamente qui wooden barrel me li pagano 10.000 un pochino poco questo serve lo steel e le ceramiche steel per cui serve l'iron ore e il carbone potrebbe diventare interessante perché un frigo me lo pagano 108 però vuole il chemicals triste 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 il telefono sempre still vuole qui c'è un sacco di robetta ecco qua fermi tutti le stoviglie lo stove che credo sia il fornello non lo so si fa nel home good factory noi le ceramiche già ce le abbiamo sbloccate lo steel ci serve questo qui ma noi già ce l'abbiamo dimmi che abbiamo i gatherers abbiamo due punti e possiamo sbloccare sia iron che copper ragazzi è venuto il momento ma avremmo scelto un posto che c'ha sia iron che co ah no iron e coal iron ore coal perfetto in questa inizia l'avventura di marcus cron per quanto riguarda le miniere quindi sblocchiamo coal sblocchiamo iron e andiamo subitissimamente a creare le nostre cose è da tanto che volevo farlo non c'ero mai arrivato al mio let's play purtroppo non ve lo posso più far vedere perché è totalmente perduto minchia iron ore una marea tra l'altro questa è un'altra città uh questa è un'altra città eh vabbè quanto costerà la licenza qui tre milioni vabbè la compriamo tre milioni di dollaro spesi per poter sfruttare queste cose vedete com'è figo qui ci sono le risorse devo pagare la licenza ma io non le venderò qui le venderò nella città accanto nello stato accanto molto interessante questa meccanica iron ore adesso posso farlo vorrei mettermi qui un distretto in cui lavoro no sarebbe bello sbloccare un ponte dimmi che posso logistica posso sbloccare i ponti oh yes posso sbloccare i ponti quindi posso avvicinarmi alla città non male oppure posso utilizzare questo tratto mi aumenta il costo del trasporto e posso fare tutto più vicino sì direi direi di sì allora super guys abbiamo bisogno di stare attenti e soprattutto di aprire l'area saip andiamo a cercare stove perché qui vuole almeno quattro cose inizia a farsi complicato abbiamo bisogno della sabbia ok per fare la ceramica vabbè questo è facile e poi lo steel vuole carbone e cola quindi che prendiamo qui nel glasswork quindi abbiamo bisogno di due glasswork ok e poi un home good factory che è l'unica cosa che non ho controllato sta qui non sapevo che sta qui perché perché parla troppo freddo niente niente lo maledico ti maledico guarda ma davvero non posso farti triste potrei potrei vendere lo steel però lo steel non è proprio un prodotto di quelli sai il carbone per 2000 lo steel per 12.000 potremmo buttare qui buttiamola qua ma si facciamo che vediamo glass e steel per un totale di 20.000 recuperiamo i costi e quando abbiamo la possibilità di costruire quello abbiamo già un'infrastruttura molto 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 ben assistata non male questo piano abbiamo qui anche un'altra cosa che vende tantissimo il power mill il gif writing oh mio dio questo 95.000 questo sembra terribilmente facile anche i libri sembrano terribilmente facili andiamo di nuovo a controllare vedete perché vuole cambiare l'albero tecnologico vuole cambiare l'albero tecnologico perché se no c'è sempre molta confusione nell'andare a prendere quello che mi serve aspetta fammi vedere invece no così ti servono i glass tu già ce l'hai sbloccata questa basta che sblocchi i glass allora dicevamo nel paper mill che cos'è che abbiamo abbiamo paper e cardboard abbiamo i regali i regali già sbloccata non perderemo nessun punto non perdiamo nessun punto i regali eccoli qua questa non è male 95.000 uno di carta e uno di cartone ai 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 beh direi di sfruttarlo sì sicuro 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 direi di sfruttarlo il problema è che zone per prendere l'acqua ce ne sono poche perché devono avere almeno due tile due cose vicini vicini facciamo così partiamo con questa infrastruttura io già voglio le le mie industrie che partono partono ardono allora andiamo anche perché non le ho mai fatte quindi voglio vedere le mie iron ciccio ciccio belle belle putenti le devo mettere probabilmente posso metterle anche lontane no non credo mettiamo una qui oppela e ci mettiamo gli harvester gli harvester devono stare nel raggio can't play here devono stare nel raggio dell'iron ore non mi dire che devo buttarti giù oh shit eh si ti devo demolire quindi deve stare più o meno così e vediamo un po' can't play what the fuck ah ragazzi ma sono un babbeo questo è coal madonna santa quanti soldi ho buttato quanti ok che pippa incredibile oh eccolo qui mamma mia mamma mia sorry non vedo più il ciccio ciccio eccolo qui a destra lo mettiamo verso l'alto mettiamo uno qui e uno qui sono 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 un po' triste li riprendiamo giuro che li riprendiamo ma ho fatto una figuraccia incredibile ok questo amico frizzo lo mettiamo qui questo amico frizzo lo mettiamo qui tra l'altro a breve cioè a breve non a brevissimo però a breve il nostro compare dovrebbe mettere che gli harvester funzioneranno in base cioè la velocità degli harvester sarà in base a quante risorse metti vicino quindi non posso mettere un harvester qua che sfiora un pezzo di coal se no produrrà molto lentamente questo soprattutto per il lumberjack andiamo a fare un'altra stradina ne avrei potute mettere tre ma voglio vedere come andiamo d'accordo d'accordo qui il nostro amico parte e va qua e qui ci serve no non ci serve l'acqua ora che ci penso è troppo lontano laggiù ci serve la sabbia sabbia che ha le stesse meccaniche della della nostra amica quindi dobbiamo andare a prendere il sand collector lo mettiamo qua è un bel posto non mi dispiace uno due e tre di sabbia ne aggiungo tre perché ho l'impressione che me ne servirà di più maybe I don't know e a questo punto collegherei tutto qui ora ci serve la logistica come al solito la logistica in porciance soprattutto perché poi mi da altri puntarelli usare la logistica track dei post ah ma non abbiamo visto se qualcosa che possiamo fare con call still intanto facciamo la produzione di still e poi vediamo dai andiamo a mettere il track dep per questo il track dep per questo e dopo vediamo no si possiamo mettere anche il track dep qui per questo lo facciamo così così è super vicino e stai a pace vi ricordo vi ricordo vi ricordo di rinominare i vostri depositi se no non ci arrivate a capire niente logistica che chiamerò chiamare log ferro log acqua per mamma mia per still no scusa no questa qui non è acqua sabbia per still e perché serve l'acqua per lo still fermi tutti ah perché mi serviva questo è vero è vero è vero le ceramiche ho dato un'occhiata alle ceramiche qua sopra ma andiamo a vedere tutto quanto guys e lo still invece no lo still serve soltanto soltanto uno e uno di risorse grezze molto molto facile va bene allora togliamo la sabbia la sabbia vera adesso me la chiappo e questo qui diventa log logistica coal e per steam sinceramente non credo che ci serva dirglielo quindi andiamo all'ironmine e gli diciamo che la destinazione ovviamente è what the fuck no 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 è logistica dove sei logistica ferro e andiamo al coal gli diciamo che la logistica a cui devi mandarlo è la logistica coal perfetto diamo un pochino di azione andiamo a vedere stanno producendo stanno producendo ne fanno due ogni dieci giorni interessante andiamo a mettere allora a questo punto la fabbrica dove sei la glasswork giusto la mettiamo vicino al centro quasi io come voi sto sto ancora agli inizi ragazzotti quindi minchia quanto mi costi ma quanto mi costi costosissima niente ragazzi nessuno vuole il mio steel vabbè dai fa niente quindi andiamo a preparare la nostra glasswork per fare il glass oppela e queste due io le lascerei qui perché sinceramente fra un po' quando ci avremo sbloccata quella cosa non ci sarà il problema la mandiamo direttamente dentro la fabbrica e dentro la fabbrica quindi il nostro amico mi sta facendo il glass giusto oppure la ceramica andiamo a vedere la stove era la ceramica vedi non ci sbagliamo tacchete e ticchete oppela ed oppela dobbiamo dire ovviamente al nostro ciccio ciccio di andare a portare la sabbia let's go dentro la nostra glasswork and smelter eccola qua quindi qui stiamo producendo lo steel perfetto lo storage già c'è lo steel la produzione è di 1 ogni 15 giorni fattibile vi ricordo che la fabbrica non funziona se non sta fumando la ciminiera quindi vedete qui funziona qui ancora no se tu non metti la destinazione alla logistica che in realtà non serviva questa logistica non serve onestamente tu la mandi direttamente qui dentro effettivamente questa logistica non serve la buttiamo totalmente ma in realtà ora che ci penso serve esclusivamente per avere una scorta di risorse potete farla così altrimenti potreste pure non farla io adesso questa qui potrei pure buttarla giù però la tengo perché perché così quando partiamo abbiamo molte più risorse storate potrebbe essere vista come una sorta di magazzino log sabbia vai adesso gliela mandano e adesso da qui parte il camioncino e va qua però effettivamente ora che ci penso quando il rapporto è 1 a 1 quando questa deve dare soltanto a una di queste anche se effettivamente potremmo mettercene un'altra e supplire altre non serve non serve mettere la logistica io lo sto facendo così tanto per quindi aspettando che il nostro home goods factory home goods quindi bene i beni per la casa si sblocchino dobbiamo scegliere dove andare a parare abbiamo qui la distilleria a questo punto io inizierei a sbloccare la distilleria abbiamo un puntarello intistir to unlock ai 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 ancora tre ancora tre old regulation oh thank you thank you so much ancora tre punti da sbloccare in questo ciccio ciccio taci tua e adesso che fai fai beer e cinder che cacchio è il cinder i don't know la birra possiamo farla la birra possiamo farla crop farm il wooden bar nel carpentry ragazzi possiamo farla ma è meraviglioso ma è bellissimo togliamo le notifica sto coso così non ci rompe più le pallette però visto che abbiamo perso un sacco di soldi per fare sta scemenza e pure il mio errore a questo punto direi di riprenderceli con i nostri articoli da regalo eccoli qua bam 95.000 dollari non male affatto ci serve della carta e del cartone vi ricordo che il cartone si fa sempre una paper mill ok quindi se io cerco come si chiama gift yes gift eccolo qua ci servono due paper mill alimentate con il lumberjack ok l'unico problema è l'acqua 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 ecco l'acqua la dobbiamo mettere per forza in mezzo qui in modo da poter prendere l'acqua da qualche parte e credo che la prenderemo ah no qui me lo fa prendere oh grazie ma lei è molto gentleman bam e bam perfetto come al solito le strade non vedo l'ora di sbloccare le strade un po' più migliori a 6 ma forse a questo punto quando potremo produrre un sacco di materiali vorrei import anzi esportarli nelle regioni lontane con un treno meraviglioso treno e il nostro lumberjack a questo point of situation lo mettiamo lo mettiamo qui tanto per adesso l'importante è che stia vicino al nostro builderissimo dove dove sta il fregnetto ah eccolo qui voilà i nostri amici tra l'altro adesso possono stare dove ci pare c'è nel senso possiamo metterli così così e così e va bene oppela quindi logistica dell'acqua assolutamente perché adesso possiamo trasferire queste cose soltanto in due di legno andiamo a rivedere la nostra recipe eccola qua quindi ci serve in una due e per quell'altra ce ne servono una soltanto quindi due di questi servono oh meno male che me lo sono accorta adesso eccolo qua facciamo un bel circoletto due di questi ne servono una e due perfetto quindi andiamo a fare il nostro paper mill lo mettiamo ma si ma qui e ancora qui io l'ho fatta molto lontana da questa città e pagherò un po' di trasporti però vabbè fa niente e andiamo a togliere questa brutta visualizzazione che non si può vedere quindi fermi tutti ok l'acqua destinazione dell'acqua sarà questa fattoria qui che andremo a chiamare carta per regali e come produzione ovviamente farà la carta e quest'altra invece è cartone per regali e come produzione deve farmi il cartone questo qui perfetto quindi io voglio mandare due track a quello del cartone factories cartone e un track soltanto a quello della carta di qua faccio il contrario ovvero faccio destinazione in carta se non sbaglio fammi vedere che vuole vuole due e invece in cartone io ne mando only one kenobi dovremmo esserci guys dovremmo esserci let's go vediamo un po' oppela perfetto partito partiti tutti e due meraviglioso quanto ci mettono a farlo 15 giorni e 15 giorni perfetto ancora più perfetto vediamo un po' quanto ci mette invece a fare il nostro gif non ce lo dice però il rapporto è 1 a 1 è 1 a 1 interessante interessante paper mill la vogliamo avvicinare non la vogliamo avvicinare la vogliamo tenere in mezzo alle due città ma si ma si ma si ascoltate io faccio tutto vicino perché mi piace mi piace lei è la nostra gif wrapping eccola qua scriviamo regali non ho idea sinceramente del che cosa può intendere e ci mette 12.5 giorni ok d'accordo quindi destinazione ovviamente shows a destination la più vicina è ah no devo darle un nome no 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 è regali la più vicina e anche per lei o per la destinazione signore e signori è regali vediamo un po' escono i camioncini mobiti mobiti sta ancora producendo effettivamente ovviamente la vai perfetto signori è partito il nostro regalone il regalone sorpresone noi abbiamo un positivo di non lo so sinceramente fatemi vedere sta scendendo malissimo e guardate il nostro netto eccolo qua 1600 160.000 160.000 ovviamente io ho pure le spese di queste fabbriche che stanno producendo ma a buffo di cacchio questo è il brutto di fare un let's play al al vuoto però mi piace andiamo a vedere dal nostro amico perché ora che ci penso io stavo lavorando di là ma forse no oh cacchio pure lui oh cacchio pure lui fermi tutti cioè mi state dicendo che vendono sia di qua che di là che vogliono sia di qua che di là il cartone 95.000 questo 95.000 quindi io potrei fare una mass produzione di questa roba perché queste queste due e questo e questo probabilmente satureranno questa questa richiesta potrei farne altre due ora io direi che la mia amica va a vendere ragazzi va a vendere va a vendere allo stato più vicino fammi vedere dove parte dove parte dove parte dove parte è lui è lui si vediamo dove va va qui quindi per assurdo è più vicino quello più costoso quindi siamo andiamo bene bam dove vai no aspettate regà dove va pronto dove sta andando fermi tutti non mi dite ma è qui pulpus dove sta andando no ok so dove sta andando ho cliccato stato ho cliccato stato in un negozio sono un pirla commercial va a fangula tornerai indietro si sta tornando indietro il nostro amico sta tornando indietro sott'acqua ragazzi ma che che logistica incredibile ha proprio tagliato la testa così la logistica di gesù va bene ok riprende io non ho paura guarda vediamo un po' oh yes adesso questo qui non si può togliere rimane qui per sempre non lo so bookstore eccolo qua già ha consumato uno storato e ce l'ha venduto perfetto meraviglia allora cerchiamo di implementare questa cosa cerchiamo di fare una cosina fatta bene più che altro ad esempio non mi è partito perché non mi è partito perché ci vuole un po' di tempo e questo qui non mi sta funzionando qui l'affare tanfa tanfa l'acqua c'è e abbonda non lo so potremmo fare delle cose sozzette potremmo fare allora abbiamo un bel puntarello qui sapling che bello il treno terminal e tutte quante cose ci manca un puntarello qua sapete perché? perché non sto usando per niente l'agricoltura per niente proprio e invece mi servirebbe l'agricoltura soprattutto perché la crop farm mi dà il grano e col grano posso fare gli animali nel 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 non so dov'è nella no mi sa che è sempre il farming eccola qua il livestock cioè per avere le galline per avere le mucche ci deve avere il grano da darle ok d'accordo qui abbiamo sbloccato questo qui servono ancora tre punti spesi per questo ok ci siamo quasi ci siamo quasi ci siamo quasi si avvicina si avvicina si avvicina il bar le whisky allora ho fatto oh cos'è questo? eh ancora non posso farlo maledetto ho fatto altri due di questi ho implementato la legna a 5 harvester e adesso la produzione dei regali va bene va abbastanza bene la carta è sempre un po' indietro perché purtroppo ragazzotti sebbene l'harvester posso mettere altri due harvester adesso questo luogo è un po' stronzo è un po' stronzo vedete ho scelto un posto un posto spiacevole non posso metterlo qui se uno non posso metterlo qui bello ok un po' in culo però almeno abbiamo un harvester in più che dovrebbe dare un pochino più di acqua al nostro mulino e quindi ho dovuto fare le logistiche vabbè avete ben presente allora ho fatto anche un orchard di vegetali no scusate una crop farm di vegetali per prendere un po' di puntarelli di gutter di farmi oh ce l'abbiamo ce l'abbiamo quindi posso andare in industry e sbloccare finalmente il barley whiskey oh yes oh yes posso ancora prendere un'altra cosa prendo la food factory prendo la food factory vabbè adesso adesso fermiamoci facciamo questo e andiamo a sbloccare il grano bam bam signori quindi andiamo a vedere se questo qui per caso ha messo un negozio di alcolici no sono molto triste andiamo di qua e vi ricordate quanto quanto ah tra l'altro abbiamo superato no adesso no però prima ho superato il milione di soldaini quindi very good negozio di alcolici eccolo qua il barley whiskey mmm che goduria che goduria oh yes non vedo l'ora allora ci serve tanto grano ok il grano il grano il grano iniziamo sempre e solo dall'acqua e stavolta mi scelgo un posticino ducio ducio dove mettere i miei herbester uno due tre io direi che andiamo di quattro posso metterlo qua e cinque ok let's go andiamo a costruire le strades tra l'altro strade dovrei avere sbloccato finalmente qualche cosa yes sblocchiamo le strade urbane che costano un po' di più ma ragazzi vanno molto più veloci i nostri cicci cicci quanto costano di più il doppio oppela 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 vai subitissimamente non so perché quando scendo qua mi va sicuramente lo sistemeranno questo problema andiamo a vedere di mettere subito la logistica la possiamo infilare qui da qualche parte no sono un po' triste che ho fatto sta pecionata brutta ma brutta brutta vabbè la mettiamo qui come al solito storage anzi no destination ovviamente dell'acqua nella logistica più vicino e non c'è piove andiamo a mettere il grano il grano è importante il grano lo andiamo a puttizzare un po' qui sul lato sinistro vorrei quindi andiamo a vedere come mi richiede di fare la forma se io la mettessi così guys due di grano due di grano se la metto così invece ok mi fa fare questo lavoro qui d'accordo d'accordo ce ne mettiamo un'altra però aspetta questo c'ha tre cose che in 15 giorni mi danno tre di grano ah è vero l'è vero l'è vero opp bello posso fare l'oppio non è l'oppio purtroppo non c'è l'animazione la roba che cresce mi piacerebbe tantissimo che ci fosse proprio tanto 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 quindi diciamo sto un po' nello spazio risicato lo ammetto diciamo al nostro ciccio di portare l'acqua non alla logistica ma la fattoria non la fattoria ma la fattoria questa la farm eccola qua grano vai vediamo un po' vediamo un po' se tutto procede bam 5 di grano e 5 di acqua entra qua dentro parte il ciccio ciccio gli arriva gli arriva gli arriva ragazzi gli arriva quindi in 15 giorni farà 3 di grano ok a sto punto io farei un'altra fact questa qui la mettiamo la mettiamo la mettiamo qui ci mettiamo un grano turco qui mi sto incastrando male però va bene così ci abbiamo 6 di grano ogni 15 giorni yes va bene fammi il grano turcos la potevo fare di volta verso di qua guardate quando faccio così mi sto sul cazzo in una maniera incredibile e spreco i miei soldini tra l'altro abbiamo oh abbiamo superato di 3000 euro di 3000 dollari il monte che c'avevamo iniziale bello 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 ok no mettiamola così ok non è cambiato niente speravo di poterla incastrare in maniera più efficace e invece sempre così e sempre così devo fare triste bam ok diciamo la logistica ovviamente di andare a prendere l'acquietta bella e portarla anche qui alla nostra crop farm che si chiama 5 e con 2 dove sei fermo con 2 oh non riesco a cliccarci con 2 clic perfetto bam vediamo un po' se esce anche lui ma perché ho messo vegetali fermo destinazione storage eccolo qua camp de grana vai così perfetto ora noi dobbiamo mandare il prodotto finale se non sbaglio ah c'è anche l'acqua perfetto perché qui ce ne ho 5 no perfetto il cavolo qui ce ne ho 5 però secondo me l'acqua la produce in meno giorni vediamo in 7.5 quindi una destinazione la posso mandare alla fabbrica la fabbrica la vorrei mettere la vorrei mettere qua avevo già fatto questa brutta strada la cancelliamo ok la fabbrica deve essere vicino alla fabbrica che fa le bottiglie che deve essere vicino alla fabbrica che fa il glass che deve essere vicino al mamma mia mamma mia mamma mia alla la sabbia collector quindi la sabbia collector andiamo subito a mettere ogni tanto mischio italiano e inglese la mettiamo qui qui ci dovrebbe essere uno slot qui un altro qui un altro quindi possiamo anche fare una cosina così perfetto e andiamo a mettere uno uop due tre e basta per adesso purtroppo molto molto triste e andiamo subito a mandarla dentro una bella dove sei dove sei dove sei non paper mill ma che cosa dici glasswork Antonio Calabro che è gigantesca però c'entra però c'entra ne facciamo subito un'altra o pelà e poi andiamo a prendere chiuditi tu la nostra distillery ci dovremmo essere ci dovremmo essere diamo un'occhiata andiamo a ad attaccare tutte cose e attacchiamo oh no cacchia cacchia cacchiarola brutto 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 a fare o gli faccio fare o gli faccio fare il giro ed è un'incredibile perdita di tempo oppure questo qui lo butto giù ragazzi vediamo che succede se lo butto giù allora lei mi deve andare nella factory più vicina che è questa ok questa mi deve produrre il glass e deve andare nella factory più vicina uh c'era un intoppo c'era un intoppo io il glass work non avevo non avevo le bottiglie meno male che c'ho un puntarello bello meno male ah ok 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 che paura andiamo andiamo qui vi diciamo che come produzione mi deve fare le bottiglie e adesso possiamo mandare questa o per la a questa factory qui vediamo un po' come funziona intanto questa qui vi diciamo che le bottiglie devono andare in questa factory qui qui e qui diciamo che la destinazione della crop farm no questa qua sorry deve essere la nostra bellissima perché factory non ti piace ah giusto perché gli devo dire che cosa devi fare devi fare posso fare anche il chocolate liquor bello oh yes eccola qua vai così butta tutto qui dentro non vedo l'ora perfetto e infine uno degli acqua che abbiamo in realtà forse ne servirebbe ne servirebbe soltanto una abbiamo qui il circoletto è fatto vediamo che succede allora la glass sta producendo ogni 15 giorni un vetro ecco questo è male questo è male perché per produrre le bottiglie ne servono due ne servono due questa qui la facciamo diventare la facciamo diventare un altro glass purtroppo sono molto 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 triste qual è il coso questo qui yes dobbiamo farla diventare glass anche lei e dire a ciccio ciccio di mandare due e due glass eccolo qua di mandare due e due a questo d'accordo così dobbiamo vedere se si sostiene produce uno di sabbia uno di sabbia e con un harvester solo non ce la fa ragazzi sono molto triste di annunciarvi che con un harvester solo il nostro amico non ce la fa quindi o spostiamo tutto come cazzo perché bisogna andare a incastrare qua dentro non c'ha senso però ogni 7.5 giorni quindi ne produce 4 no no ce la fa invece ce la fanno perfetto allora andiamo a dare un'occhiata io devo semplicemente fare un'altra glasswork la metto qui questa sarà quella che produce il nostro amico bottles le nostre amiche amiche bottiglie chiamiamola subito bottiglie bottigliev ok diciamo alle bottiglie di produrre le bottiglie ma di andare la bravery factory e diciamo a questi due di andare in bottiglie quindi ci dovremmo essere vediamo un po' allora le bottiglie vanno qui dentro che iniziano a produrre ogni 10 giorni cioè il glass va qua dentro e inizia a produrre le bottiglie però dovrebbe andare perché sono in due bam ogni 15 giorni tacci vostra tacci vostra davvero allora queste ce la fanno questa è un po' di meno perché è zero vedete l'importanza adesso davvero le prime volte che sto giocando a sto gioco ci sto giocando anche per passione cioè non voglio portarvi un let's play non era mia intenzione all'inizio portarvi un let's play è partito adesso? no li va soltanto a dare a lei questo mi sta un po' sul culo che facciamo uno uno e ogni volta spero che si distribuiscano a questo punto attenzione perché qui stiamo stiamo producendo stiamo producendo il barley whisky oh yes oh fucking yes vediamo se le distribuisce adesso yes perfetto perfetto l'importanza di fare questo lavoretto qui per il futuro ricordiamocelo praticamente se io ho la logistica qui su questo asse e devo produrre un rapporto di due a uno io devo mettere qui e qui le due factory ok immaginate che qui ci sia la sabbia le due factory stanno qui qui e qui così arriva uno e uno e poi da queste due arriva di qua che c'è quella che deve raccogliere se non facciamo così ci sarà sempre una factory che sarà preferita all'altra però adesso sembra funzionare tutto quanto vediamo il livello di grano forse il grano è esageratamente troppo forse il grano forse possiamo fare a meno di un grano e questo potrebbe significare che io posso fare possa fare una cosa del genere ci potrebbe stare così nel caso in cui volessimo potremmo aggiungere qui un'altra di queste e un'altra di questa perché effettivamente 48 di grano è tantissimo ragazzi stiamo producendo abbiamo 7 oddio cacchio 7 così tanto andiamo a scegliere subito una destinazione non lo stato ma un commercio alla 62 di distanza partono i camion let's go e andiamo a oh che cazzo di scatto che mi hai fatto eccoli qua sono loro e vanno a vendere dove va ah questo è il negozio di liquori bam 3 storati 7 per weekend è una richiesta incredibile signori qua sotto potete vedere abbiamo sforato in 1.200.000 1.200.000 io a questo punto direi che la nostra fabbrica possiamo dire di mandare anche un po' più di camion tanto costano dovrebbero costare uguale eccoli vedete che parto non è vero non costano uguali però vabbè chi se ne frega ci interessa vedere eccolo qua 1.200.000 meraviglia meraviglia adesso arrivano i nostri camioncini oh yes no questo è hardware questo è liquor già finito lo stock meraviglioso questi bevono 7 tonnellate meno lo so di di liquore oh 1.500 1.500.000 ragazzotti 1.500.000 allora fatemi vedere se per caso questo qui si sblocca col cazzo si sblocca con il cacchio peccato un po' lento questo gameplay lo ammetto io sinceramente giocandoci in privato che ne so mi serviva che sbloccassi una cosa mi fumavo una sigaretta mi facevo il caffè e e poi arrivavo e dicevo ah vedi adesso ho un nuovo punto con i prossimi aggiornamenti toglieranno questa cosa che è un po' fastidiosa e poi vi ricordo che siamo alla 0.5 quindi è proprio un alfa un alfa un alfa arriveremo alla 1 finale con un albero della tech completamente capovolto e con un sacco di migliori in più secondo me tipo secondo me le animazioni queste qui le metterà sono molto carine è giusto che ci sia quindi ragazzotti produciamo finalmente il il glassone abbiamo 1.900.000 non posso crederci oh mio dio profitti 2.500.000 mamma mia e ho bloccato queste fabbriche qui no queste ma scusate queste qui in attesa di poter sbloccare i beni della casa i beni di casa i good home home good una cosa del genere perché perché sono quelli più danarosi sinceramente avrei voluto farvi vedere anche il treno non lo so sinceramente questa cosa e poi il spostamento via treno perché non l'ho non l'ho mai visto mi piacerebbe un sacco vedere come fare per creare la ammazza quanto è cresciuta sta città minchia per creare la nostra linea ferroviaria e fatemi sapere nei commenti ovviamente con tanti vi piace magari vi vi scappa anche un terzo episodio su questo gioco del tutto inaspettato è molto piacevole davvero molto piacevole ragazzotti vi sali lustro bella per voi ciao